Siamo con Negrea Alexandru e parliamo della grande vittoria al primo round a Octagon. Allora parliamo anche col suo coach e raccontaci un po' com'è stato questo match e soprattutto come si è arrivati ad avere una vittoria così, diciamo, fulminea. Il match è preparato bene, Alexandrea è stato quasi un mese alla palestra, mangia, dormia in palestra diciamo. Molto allenamento a Silvio, sì. Ha allenato di brutto, è preparato in consultazione di Dio e il match lui ha ancora cominciato a studiare. Prima di studiare il match è arrivato il K.O., che il K.O. studiato viene con un bel montaggio. Senti, com'è stata l'esperienza di combattere Horton di fronte a 12.000 persone al Forum di Milano? È una bella esperienza, è qualcosa che non si può dire con le parole. Quando sai che ti guarda 12.000 gente non è un po' di emozione. Senti, tanto allenamento per arrivare lì, però ovviamente quando sali sul ring e c'è tutto quel pubblico, un po' di emozione c'è sicuramente. Ma certo che c'è. Questo come fa, come coincide con il fatto che bisogna essere freddi per affrontare il match e arrivare alla vittoria? Concentrazione, tutto concentrazione. Ti concentri e quello che è il ring. Senti, per arrivare in forma e preparato al match, tu hai combattuto anche il Super Combat, che tipo di allenamento hai preparato? Cioè, quante volte alla settimana e quante volte al giorno ti alleni di solito? Minimo 8 volte alla settimana, anche 2 volte al giorno. No, che c'è un bel allenamento, c'è un bel allenamento, c'è tante etappe di allenamento, tante cose da fare. Abbiamo fatto tutto, siamo entrati completi. Senti, obiettivi per il futuro? Cosa è? Ci sono altri match internazionali? Ma adesso c'è tante match, però io adesso cerco di match che è importante, di match che è importante per lui, chi va avanti. Adesso il 23 c'è il Super Combat in Romania che è importante, c'è tante contre, poi vediamo noi che va bene per lui. Allora, adesso verremo in palestra proprio per fare un servizio per Bruno International, anche così andiamo a vedere come ti alleni e racconteremo poi qualcosa anche di te. Ovviamente della tua carriera e soprattutto di quelli che sono i tuoi obiettivi futuri. Allora, ricordiamo dove si trova la palestra, il tuo team, che è un team importantissimo, che sforna grandi campioni. No, il team Shady Ahmed, palestra sport, previsione e salute per Bruno Rossi 88. Sì, è qui a Milano, è una zona comodissima, è una palestra... C'è anche il metro, c'è tutto il... Facile accesso, ovviamente anche molto raggiungibile con i mezzi. La palestra è grande, con due ring, due sali grandi... Allora, un posto dove effettivamente si respira aria di sport da combattimento e del posto ideale per formarsi fisicamente e mentalmente. Si può diventare campioni. Un posto per la forgia dei campioni. Che c'è il maestro vicino. Grazie, allora, grazie dell'intervista, allora ci vediamo la prossima settimana in palestra da voi. Grazie. Grazie.